È il dato che maggiormente colpisce dei tanti riportati dal rapporto dell'Istat sul benessere del Paese. Nel 2020 la speranza di vita si è ridotta di oltre un anno. È la prima volta che accade ed è dovuto alla pandemia con il conseguente aumento del rischio di mortalità. Lo confermano i dati dei territori più colpiti dal Covid. A Bergamo, Cremona e Lodi la speranza di vita si è ridotta di più di quattro anni per gli uomini e di più di tre anni per le donne. L'emergenza sanitaria però ha avuto pesanti ripercussioni anche sul mercato del lavoro, in particolare sulle categorie più vulnerabili, i giovani, le donne e gli stranieri, con un tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni che è sceso al 62,6% contro il 63,5% del 2019. Questo è il dato a livello nazionale ma nonostante il calo abbia colpito di più il Nord per effetto della prima fase della pandemia. È il mezzogiorno ad essere ancora in ritardo. Al Sud, infatti, il tasso di occupazione è del 48%, 23 punti in meno rispetto al Nord e quasi 20 in meno rispetto al centro. Altro dato significativo e molto preoccupante è quello relativo ai cosiddetti NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. In media nel Paese sono saliti al 23,3%, un aumento accentuato nell'ultimo anno per effetto della pandemia al Nord e al centro, mentre nel mezzogiorno il dato resta costante ma la situazione è comunque drammatica. Rispetto al Nord, nel Sud del Paese è doppio il numero dei giovani che non lavorano e non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. Il problema nasce dal fatto, secondo me, che sempre di più i giovani oggi si rendono conto che non hanno prospettive, ma se ne rendono conto abbastanza in fretta, perché la società in cui vivono è sempre più competitiva. Si è molto arrendevoli nei confronti anche di cercare il lavoro, proprio perché viviamo in queste situazioni in cui per i giovani non c'è più spazio, perché purtroppo l'Italia è un paese di vecchi, però non so se possa essere anche legato alla situazione che c'è stata adesso con il Covid, magari proprio difficoltà sia sociali che relazionali, magari problematiche del genere. Soprattutto i giovani sono tanto influenzati dalla bella vita, avere tutto subito, ad acquistare tutto quello che possono acquistare e quindi tendenzialmente c'è poco impegno, secondo me, nella parte magari più scolastica, più di lavoro. Bastano appunto determinati follower, basta crearsi un personaggio e questo è abbastanza per riuscire a diventare famosi e a diventare molto più ricchi di quanto possa diventare una persona in realtà che ha studiato tutta la vita, è laureata e fa gavetta. E poi, sa, abbiamo sempre il fenomeno della disoccupazione alle stelle, insomma, si cresce in un ambiente che ci scoraggia, che non ci porta a credere chissà quanto in un futuro. È un fenomeno sicuramente allarmante e preoccupante, quindi bisognerebbe intervenire con delle politiche adatte, quindi per recuperare questi giovani perché se no non hanno alcuna possibilità di creare il loro futuro.